I carabinieri forestale del Centro Anticrimine Natura di Palermo, nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, con il supporto dei militari del distaccamento CITAS di Trapani, al termine di una lunga e articolata attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno notificato l'avviso-conclusione indagini preliminari a carico di soggetti sospettati di essere gli autori dell'uccisione, con crudeltà e senza un apparente motivo, di un esemplare di cicogna bianca, specie particolarmente protetta sia dalla normativa italiana sia da quella comunitaria. Bisogna rilevare che gli indagati sono allo Stato solamente indiziati del delitto. A seguito dell'episodio avvenuto nel settembre del 2021 nel territorio di Marsala, i militari dell'arma forestale hanno prontamente avviato un'attività di indagine che ha permesso di reperire un video che ritraeva il fatto criminoso e sequestrato i bossoli rinvenuti nelle immediate vicinanze del luogo dello sparo. L'analisi delle immagini, effettuate con l'ausilio delle tecnologie messe a disposizione della sezione Investigazioni Scientifiche e del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, ha consentito di giungere all'individuazione di due individui sospetti, possibili responsabili del fatto, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di uccisione di animali senza necessità, aggravato dal fatto che lo stesso fosse avvenuto ai danni di una specie protetta e in giornata di silenzio venatorio. Sotto la direzione della procura di Marsala, le indagini sono continuate, effettuando dapprima una perquisizione domiciliare che ha consentito di rintracciare la probabile arma con la quale i due soggetti, uno dei quali titolari di licenza di porto di fucile da caccia, avrebbe compiuto l'insensato gesto, oltre agli indumenti indussati dagli stessi il giorno della commissione del reato e l'autoveicolo utilizzato per fuggire dalla scena del crimine. L'arma sequestrata veniva poi sottoposta agli esami balistici a cura del reparto Investigazioni Scientifiche del RIS di Messina, il quale forniva la prova che l'arma sequestrata fosse compatibile con quella che aveva sparato lo scorso settembre. Inoltre venivano acquisite ed elaborate le celle telefoniche delle utenze cellulari in uso ai sospettati, che anche in questo caso collocavano i due nelle vicinanze del luogo dell'evento, in un arco temporale compatibile con il suo accadimento. Rilevato il quadro probatorio, i carabinieri hanno proceduto pertanto al ritiro cautelare di tutte le armi e munizioni legalmente detenute, non chiede la licenza di porto di fucile da caccia, ritenendo che il soggetto detentore non presentasse più i requisiti di affidabilità per la detenzione della stessa, anche ragione del fatto che venivano rinvenute munizioni non denunciate, di tipologia non compatibile con le armi di legittima detenzione, conservate con modalità idonea. È stata informata di tutto quanto l'autorità di pubblica sicurezza per l'adozione dell'eventuale procedimento di revoca della licenza. La complessità dell'attività della quale si è dato atto dimostra quanto sia alta l'attenzione dell'arma dei carabinieri sui reati ambientali, in particolare sui reati a danno degli animali.